25 anni rappresentano un numero importante sia per una persona, ancora di più per una società e molto di più per il mercato immobiliare italiano che con la mia società Scenari Immobiliari ho cercato di rappresentare, descrivere e quando possibile anticipare in tutto questo periodo. Sono lieto di festeggiare qui con tanti collaboratori che mi hanno seguito in questi anni, quasi tutti con grande fedeltà e attenzione, con molti clienti, oserei dire tanti amici che mi hanno aiutato, sono stati vicino dall'inizio fino ad oggi e spero continueranno anche dopo. 25 anni fa il mercato immobiliare italiano era un mercato molto domestico, i servizi di consulenza come quelli che noi facciamo erano limitati a poche società, c'era anche poca domanda, ovviamente questo ha creato anche poca offerta. Poi abbiamo visto una forte evoluzione del mercato, l'internazionalizzazione, l'arrivo degli investitori internazionali, una domanda di servizi sempre più sofisticati, noi e tante altre società italiane o internazionali che sono arrivate in Italia hanno cercato di dare una risposta. Poi la crisi, non siamo del tutto usciti da questa crisi ma il peggio è rimasto alle spalle e quindi questa sera anche un po' per tutte le persone che ci sono è un modo anche per brindare al tempo cattivo che è andato via, aspettando gli anni nuovi che arriveranno e che tutti ci auguriamo che siano migliori. Il mercato è cambiato, sono cambiati tanti operatori, è aumentato il livello di trasparenza, è aumentata la professionalità, ci sono tanti giovani che lavorano in questo mercato, i nostri consulenti, questo è il mercato di riferimento, hanno a che fare sempre con consulenti internazionali, non abbiamo nulla di diverso dagli altri e su certi aspetti possiamo anche noi essere in grado di insegnare. Il mercato sta vivendo una nuova trasformazione importante con le SIC, con la presenza del settore pubblico, con una domanda residenziale nuova. Quello che posso fare è augurarmi che i prossimi anni che arriveranno e proiettandomi ai prossimi 25 anni di avere un mercato che cresca almeno quanto in qualità, in quantità, quanto è cresciuto negli ultimi 25 anni. Grazie. 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 Grazie a tutti